Il Sinis, perché il Sinis è parte della Sardegna, è una sintesi della Sardegna. Poi questo viaggio è diventato un viaggio reale e davvero lo abbiamo attraversato cercando di tirar fuori il succo come fantastici artisti l'hanno fatto davvero a tirare fuori il succo di questa terra. Quindi vi lascio questa degustazione che a me piace chiamare multisensoriale. Il primo set è composto da pernaccia giovane, potata e casinzolo. E' araba logica per scoprire alcune cose.